La mia forza viene dalla convinzione delle cose in cui credo e dalla mia potente armatura. E' finita, Driscoll. Arredditi! Mai! Cavalieri! Fermali! Fermali! O ti assicuro che... Se tu e i tuoi amici non lascerete questo pianeta ora e per sempre, i miei cavalieri uccideranno tutti i prigionieri all'istante. No! Forse hai dimenticato qualcosa. Io sono Ben Tennyson, colui che controlla l'arma più potente dell'universo. Io ho fermato l'invasione dei Supremi. Ho sconfitto Vilgax in una lotta corpo a corpo. E le sconfitte che ho inflitto ai cavalieri immortali sono innumerevoli. Ecco che cosa accadrà. Voi libererete tutti i prigionieri, tornerete strisciando nel posto dal quale siete venuti e smetterete di dare la caccia agli alieni. Perché se non lo farete, io vi prometto che lo rimpiangerete per il resto delle vostre brevissime vite. Cavalieri! Ritiratevi tutti!